non ho ancora incassato io, solo sulla parola Angelo dall'acqua, detto il nane, si porta a casa la targa muscle two stroke Angelo anche per te una domanda così mi risponderai se puoi in breve dammi un ricordo particolare di quando hai corso, quando correvi col 250 ricordo particolare purtroppo non è bello perché c'era la paga c'era l'Angelo Nava che forse aveva il secondo tempo nel campionato italiano 91 poi c'era anche Marco Bianchi e lì purtroppo è quando era morto a Marsigli a Monza però è così meno funesto che la moto quella moto lì era quella di Antonellini del 90 e nel 91 era di Isola che poi ha smesso il campionato italiano, non so perché che è qua a Isola e l'aveva venduta a me e l'ho usata io e ce l'ho ancora quindi dai conservi la memoria che non è facile tenere le moto perché o si cambiano o si fanno lui è evidentemente molto ricco riesce a tenere tutto un bel parco moto grazie Angelo grazie